Questo è il lago dedicato alla pesca, al catfishing, se mi può affettare la piazzuola anche per giorni interi. Scusate la qualità, ma andare in macchina e guidare con una mano e con l'altra, non è il massimo. Qui cerchiamo di andare in una strada un po' più, un po' più giro. La scuola è stata fatta, un po' più giro, un po' più giro, un po' più giro. Il lo scuola è stato fatto, non è vero, un po' più giro. Normalmente i raghi sono ancora via piantumannamento Siamo alla fine Non ci posso tornare indietro Come vediamo però ci sono anche tavolini e tavoloni